buonasera a tutti buonasera io purtroppo sono costretta di venire di nuovo nella live una extra non non era prevista anzi pensavo di registrarvi un video che avevo promesso ma adesso registrerò però prima devo fare assolutamente questa life perché sapete più persona diventa famosa conosciuta non mi piace la parola famosa perché sembra una cosa da fare le gare ma una persona più diventa conosciuta più i sciacalli ci vengono addosso io parlo dei sciacalli che vivono sull'internet e truffano la gente ovviamente quando sono apparsa io dando ritualistica gratuita alle persone ok ritualistica completamente gratuita che anche chi non si iscriverà nella scuola potrà comunque con la mia ritualistica a risolvere quasi tutti i problemi della vita ovviamente a questi sciacalli io do il fastidio perché io sinceramente non ho il tempo di guardare non ho il tempo di seguire e vedere cosa fanno cosa vogliono cosa scrivono dunque giusto per caso mentre che facevo il consulto nell'occhio un occhio guardo sempre quello che succede in giro non c'è sul gruppi sul youtube e ragazzi sul gruppo nostro gruppo quello che ragazzi hanno creato quelle lì di amministratori i gestori del gruppo dunque l'hanno condiviso le ragazzi sul gruppo la foto che una certa giuliana terra ha preso il mio video dove avevo condiviso con voi nel gruppo dove facevo vedere come durante la ritualistica cosa mi è successo che praticamente una ombra nera esce da sotto il tavolo che io cosa faccio la gente con quale lavoro conoscono conoscono mando sempre le foto del lavoro o prima o dopo il lavoro durante il lavoro non ci si fanno le foto ovviamente stavo per fare la foto e come comparsa questa ombra che si allungava quel rumore che c'era lì e io con giacchetto perché io metto il giacchetto qua la notte la notte qua freddo in inghilterra quindi facendo come io sinceramente ne sono anche spaventata allora questa giuliana terra condivide sulla sua pagina di facebook e praticamente è come se forse dice che una cosa finta ovviamente per la millesima volta io vi sto facendo vedere io non faccio non vado dagli altri riconoscete il mio video dove avevo coperto completamente il volto della ragazza che ci lavoravo riconoscete la ragazza per quale lavoravo e se ne riconosce nel video perché lo sa di che parlo allora eccoci questa qui viene a scrivere che è un video che praticamente che io ho usato qualche applicazione mi avete condiviso questo avete condiviso e vi dico eccomi qua ho pigiato una cosa sbagliata dunque dicevo che c'è praticamente questa persona scusate un attimo che avevo pigiato perché avevo messo il telefono male questa persona se ne occupa della vendita dei rituali praticamente fa propria vendita c'è un sito dove questa persona vende ritualistica mo con i prezzi molto 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 alti e rituali quelli che io vi sto dando gratuiti ovviamente questa persona cosa dovrà fare me dovrà a andare e mettere le cose contro di me ovviamente non avendo nel minima conoscenza nella pratica meschiando come diceva la mia nonna fascisti e comunisti e messo i santi e adesso vi faccio vedere come che pratica questa persona sono andata a fare screenshot sul suo sito dove lei praticamente eccoci guardate vedete bene guardate ritualistica 424 vende la croce ok dopo che cosa altro ha medaglie di san benito san benedetto sarebbe che in italia io lo so che costa i spiccioli 303 euro lo vedete eccolo il prezzo 303 euro questa persona vende riti fasulli che praticamente eccolo guardate ci sono tutti luciferi ci stanno ci stanno oli le vende che costano 150 euro giusto stasera giusto stasera ho parlato ho fatto consulto con la ragazza che a me ha dato non solamente stasera già da tanto tempo che le persone a me si rivolgono piangono che sono state truffate io non è che solamente le sto ascoltando io sto conservando tutto il materiale costano pagano 1500 euro pagano 200 a questa persona questa persona li blocca e sparisce io ho tutto le screenshot di quelle persone o i messaggi vocali di quelle persone che si sono rivolte a questa nattera che le ragazze fanno dei debiti vanno sulle banche per prestare i soldi e si trovano male e questa queste personaggi come nattera dopo li minacciano praticamente che andranno a raccontare agli altri ad esempio se una donna vuole avvicinarsi al marito loro la minacciano che va a dire il marito che questa ragazza si è rivolta a questa nattera allora io per la privacy di queste persone delle ragazze non dirò mai che si è rivolto da me mai perché loro hanno paura io assolutamente devo rispettare e non posso mettere loro nel rischio nessun rischio però alla polizia io se andrò io non 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 faccio i conti con la polizia perché io mi posso posso fare assolutamente da sola fare con la signora nattera io addirittura gli ho scritto sui commenti se lei è così brava mi faccia affrontarmi faccia a faccia non la faccia così praticamente solamente sulla sua pagina ecco vi faccio addirittura se questi commenti ancora ci sono vi faccio vedere come io scritto mi venga affrontare faccia a faccia e così ne parleremo vediamo chi è falso perché l'ha scritta dei falsi maghi sicuramente andrà a sicuramente andrà a eliminare poi mi aveva attaccato io c'ho vedete c'ho tutti i screenshot screenshot di quello che è del youtube c'è uno screenshot che questa qua mi chiedeva l'amicizia vedete eccola mi chiedeva l'amicizia che io non ho mai accettata la buttata allora questa grande giuliana terra prima mi veniva sul mio canale facevo i commenti voleva fare amicizia con me quando io ha rifiutata ha cominciato a fare le cose contro di me io vi sto avvisando ragazzi più persone me conosceranno più sciacalli me verranno addosso e che è una cosa normalissima è normalissima però questi sciacalli se vede subito che non capiscono nulla nella magia prima perché avrebbero riconosciuto una praticante ritualista e non avrebbero mai andati addosso perché io vi sottolineo le streghe tra di loro non litigano mai strega vera strega con altra strega non litiga mai ci vanno addosso solamente sciacalli che non riescono quelli commercianti che non riescono a assolutamente riconoscere la vera praticante e gli capita questa disgrazia come vedete mi sto solamente sempre difendendo non attacco mai nessuno per prima però quando questi sciacalli mettono il muso nel mio territorio io ovviamente devo tirare fuori i miei denti e li devo sbrannare e così sarà con ognuna che si comporterà in questa maniera dunque io vi volevo assolutamente avvisare poi tanto bene sono andata a vedere sotto il suo canale che tra l'altro il suo canale esiste da tanti anni guardate guardate giusto per farvi capire eccola qui eccola vedete in riguardo il canale ha messo tutti i dati di pagamento subito ok guardate cioè si paga dappertutto praticamente svizzera e spagna dappertutto i numeri di telefono da ma non lasciate stare che il charlatano ovviamente deve mettere questi numeri altrimenti come fa a truffare la gente ma il canale notate dal 13 novembre 2011 2011 ragazzi quanti anni fa siamo arrivati all'undicesimo guardate quante persone 4083 sottoscritti 4000 in dieci anni che cosa sono io sono arrivata a qua un 1500 in pochi messi cosa significa che a questa purtroppo ci cascano le persone che magari non sanno nulla della pratica e ci cascano magari quello che trovano della disperazione lei questa abita in spagna poi una persona guardate sapete come si può riconoscere una praticante guardate questa persona c'è la mia età guardatela in faccia una strega può dimostrare così con tutti i denti finti ormai perché ormai sono tutti finti già non ce l'ha più anche un dente vero quindi vuol dire che energia non sa manneggiare la pelle è vecchia una fumatrice perché sul video fuma una praticante che ha da fare con delle forze così feroce non può essere dipendente né dalle religioni né dagli uomini né dal fumo né dalla droga e questo che sia chiaro ok quindi questi sciacalli continuano andare addosso ovviamente attaccarmi veri veri professionalisti con me le guerre non ci fanno perché perché ovviamente ci riconosciamo anzi ci collaboriamo io ho voluto fare assolutamente questa life perché non lo so come va a finire io ovviamente come sempre non lascio perdere nessuno andrò fino in fondo non voglio dedicare troppo tempo perché infatti volevo registrarvi quel video che avevo dato oggi nel scritto ma voglio registrare adesso anche con la voce perché voi dovete sapere la pronuncia ovviamente video gratuito un rituale gratuito con tutta la spiegazione che cosa questo è un secondo solo perché mi stanno facendo vedere le cose che io non capisco che cosa sono questo in quanto tempo ecco questa è la gente che pubblica la gente che pubblica anche la che hanno pagato questi soldi agli sono entrati 616 soldi vabbè è la charlatana pure fa vedere quanto guadagnato eccola questa qua io vi avvisato ragazzi io vi avvisato io assolutamente non ho paura di confrontarla perché è nulla una persona che minaccia le persone che sono rivolti a lei poi sapete che cosa fa lei sta vive sul mio profilo vive sul mio canale youtube e vede le persone che commentano quelle persone che si rivolgono a si sono rivolte a lei e dopo sono venuti a commentare sotto le mie foto lei li minaccia lei li minaccia con le fatture dei morti con dei demoni e tutte altre queste cose qua vi rendete conto di che cosa stiamo io c'ho dei screenshot io non parlo a vento ce l'ho degli screenshot una vera praticante non va mai a minacciare le persone che persone devono stare solamente con lei e non con l'altra anzi quando era successo quel disguido con l'altra quella di prima non voglio più ma anche nominare il suo nome ricordate e una delle mie colleghe aveva detto di aveva detto di dire alle persone chi sta là non può stare da noi io ho detto assolutamente no perché le persone devono avere la scelta devono vedere con gli occhi e paragonare io non voglio che voi lasciate né altri canali né altri gruppi assolutamente no anzi state lì per favore per vedere la differenza tra chi pratica veramente perché voi dovete imparare riconoscere i truffaldini e veri praticanti ok fammi vedere questa foto ecco una praticante che soffia le candele eccola ditemi noi tutti sappiamo tutti sappiamo chi mi segue lo sa già che soffiare una candela non si soffia mai durante rituale quando c'è il compleanno sulla torta quando ci si mettono le candeline è questo che è sbagliato che la gente soffia le candele e questo è la gente normale non lo sa chi non pratica ma chi pratica non soffierebbe mai sopra le candele soprattutto il giorno del compleanno che così particolare la giornata che si nasconde il giorno del compleanno quindi candele quando ci si esprime il desiderio casomai se voi proprio volete usare delle candele fateli bruciare fino a un fondo ma non li soffiate perché quel desiderio che voi avete desiderato soffierete via non si avverrà mai è quasi un rito maligno quello soffiare le candeline ok e di quello avevo parlato più di una volta ma la gente chi non pratica non lo sa ma chi è natera una praticante dovrebbe sapere giusto e per questo io vedo tanti queste poi le candele di plastica le foto che le usa alle persone eccola praticante ecco la streghe che voi seguite eccola guardate cioè io se mi presento così a me non mi parla più nessuno è non messa mio marito non mi saluta più se mi presento così in giro se mi faccio questa maschera maschera in faccia le forze me tolgono anche la pelle non solamente che vado come un paiaccio in giro ok quindi le basi devono sapere tutti questa fa ha detto addirittura che con le candele di cera non non si pratica perché c'è api pungono di cera d'api non si pratica perché gli api pungono ci ha scritto pure di lì ho visto anche sui commenti vi rendete conto di che cosa stiamo parlando le candele di plastica blocca la gente ma tu come lo sai oppure lei pubblica che blocca la gente sì sì ma la gente stessa mi dice che questa qui prende i soldi e dopo blocca la gente ovviamente ha scagliato una volta duemila pound dopo ovviamente il rito non viene che fa i blocchi la gente capito che roba è allora io mi rivolgo a tutti vi prego vi subito e riti non possono costare duemila pound e riti non possono costare mille cinquecento pound e riti non possono costare neanche cinquecento pound massimo che rito può costare quando è pagato il materiale da ovviamente da chi pratica mettiamo il massimo con le paghe cento euro perché quando comprate metti tre quattro bottiglie di vodka quando hai comprato il pezzo d'argento quando comprate le candele sul cento cento euro entriamo per favore e dopo quando metti cento euro per lavoro quello che faccio io io avvicinamento di coppia costa due cento euro ovviamente perché lavoro nove notti ma più perché non vanno mai al porto riti questi mettono mille cinque duemila duemila cinque perché lavorano sette notte mi hanno detto vi rendete conto ragazzi i riti così non possono quando voi vedete questi prezzi così alti è una truffa scappate scappate quando vedete che rito super ha superato la soia di 200 euro scappate sono dei commercianti non sono praticanti questo è un altro per voi un altro indizio per conoscere bene riconoscere i praticanti signora na terra perché ha solamente due anni più di me e dimostra 60 come mai non riesce a maneggiare le sue energie come mai ogni strega si sa che non dimostra mai la sua età lei per di più di più dimostra cosa significa che bastonano le forze giusto per le cose de charlatana che fa voi non me dovete toccare comunque io pubblicamente la chiamo questo video gliela rimando addirittura nel privato io pubblicamente la chiamo per una competizione in diretta io e na terra davanti tutti questi adesso sono nella chat 50 persone perché quell'altra quando quando mi vengono offendere senza che non li tocco ok nascondendosi dietro i profili false questa non si nasconde ovviamente perché deve fare le carte nella life non si nasconde però quando voi venite da me a mordermi a condividere i miei post mettendone nella cattiva luce io non parlo più io solamente vi sto invitando a una competizione davanti la gente nella diretta davanti me voi e io e vediamo diretta che sarà competizione sulla chiaroveggenza senza le carte senza le rune senza nulla mi deve dare signor anaterra il giorno e data eliminerò tutti i lavori perché ovviamente deve stare tranquilla senza aspettare che devo correre eliminerò tutti sposterò tutti i consulti che sono già prenotata già sto prenotando settembre e andremo in diretta per fare questa competizione e non mi dica na terra come ha fatto quell'altra che queste non sono le gare di harry poter si sono proprio le gare se lei non ha niente di nascondere se lei è così una strega potente verrà alla competizione perché da tra di noi esistono i competizioni anche solamente per un pochino sgranchire la capacità aspetto la data e ora aspetto qua sotto il video gruppo è aperto non ha niente di nascondere lei mi dà la data e ora e viene a fare questa competizione in diretta se lei non accetta e non viene lei è nulla nulla assolutamente nulla questa è la mia parola e a voi vi ringrazio a tutti che avete seguito vedo siete 50 persone anche se ora in italia da me eccoci è tardi da voi ancora più tardi 23 da voi mezzanotte benissimo però è una cosa che vale la pena che dovete sapere perché anche questa amici una esperienza per voi questa è una lezione per voi perché voi se volete andare e praticare per i terzi dovete sapere che questa è una delle scalette che dovrete passare vi verranno sempre addosso vi verranno ad aggredire quelle che sono falsi ovviamente perché non hanno altra via d'uscita perché vedono che loro perdono la sua faccia perché se una persona viene qua e se ha bisogno un rito io appena sono aspetti una terra io sono appena arrivata io da dicembre che sono nelle reti sociali prima non c'ero nonostante che sono più giovane di lei io non c'ero nelle reti sociali ok c'avevo un profilo privato privato chiuso dove c'è solamente la mia famiglia e amici stretti che io ovviamente sono sono mossa dall'ucraina italia canada inghilterra e per mantenere rapporto con tutti quanti c'ho 400 persone 400 amici e basta profilo chiuso solamente per i parenti e amici stretti io come una praticante non ero mai nei reti sociali e se andate nel mio youtube e faccio vedere a tutti quanti giusto per per farvi capire esco da questa qui perché veramente non si può eccola questo è il mio profilo ok youtube se noi andiamo a vedere quando è stato creato 11 dicembre 2019 dicembre 11 dicembre giusto quindi solamente tra 20 giorni era già 2020 se puoi dire che io questo canale ho creato neanche ecco sei mesi fa sei mesi fa in sei mesi fa già sono arrivata a quasi 1500 persone e questo dice io non faccio pubblicità non invito sui miei gruppi nessuno la gente viene da sola non invito sul mio gruppo di youtube pagina ma canale youtube nessuno la gente viene da sola non ho messo monetizzazione non ci guadagno anche se io posso accendere quando io sapete perché la gente fa apposta va sul youtube perché così fa dei video e possono youtube li paga io non ho accettato il pagamento di youtube sapete perché perché se io vi do è ritualistica io non voglio che rituale si interrompe e voi vedete in pubblicità a me non mi interessa nel mio canale non c'è infatti se andate nel mio canale pubblicità non entra giusto o tu me l'hai accesa speriamo di no no perché io l'avevo detto al mio marito di non accendere e lui non me l'ha accesa quindi già da lì capite quando uno è attaccato ai soldi sono venuta proprio per questo motivo sono venuta nelle reti sociali per queste persone come Giulia Natera io non la conoscevo le ragazze che vengono da me piangere perché dicono che c'erano i gruppi che questa Natera aveva creato che faceva iniziazione con la Dea Ecate li lasciate in mezzo alla strada dopo li faceva spaventare che loro dovevano non lo so cosa dovevano li hanno lasciate a metà di iniziazione capisce capite cioè lei l'ha messa le persone nel pericolo è una persona che è pericolosa e che copia esiste l'altra strega russa di lì in Spagna quale lei la copia quindi io lei la copia però ce l'ha con me ovviamente perché quell'altra strega russa mi sembra che la Sofia Tkach e lei la copia però quella Sofia Tkach la fa tutto in spagnolo e anche quella russa lei ci si è attaccata a me perché io sono con il pubblico italiano non la conosco quella anche quella Sofia Tkach non la conosco non posso garantire non hanno avuto il tempo di guardare però sta di fatto che c'è una che da tanto tempo di lista sul youtube però famoso proprio sulla piazza spagnola però come vedete quelli praticanti che conoscono più ritualistiche proprio siamo noi perché come avevo detto da noi la inquisizione non c'è mai stata quindi noi abbiamo mantenuto questa conoscenza ovviamente se la persona si rivolge a me ovviamente io se metto le mani rito costa ma quello che costa voi sapete i prezzi la gente si stupisce come mai metto questi prezzi perché non sono una commerciante io sono venuta qua per il mio scopo è un altro non è quello lì di guadagnare sopra la pelle della gente e la gente tutti quelli che vengono truffati dalla natera da sacerdotesse vengono da me io lavoro con loro gratuitamente rimettendo il materiale e il tempo ecco questi sono ecco questi sono quelli classici vannamarchi che sono famosi in Italia eccoli queste sono nuova generazione io ho detto che voi non è per caso che siete capitati nelle mie mani tutti questi ciarlatani non siete per caso voi siete capitati nelle mie mani per essere smascherati davanti alla gente e così sarà e così sarà dunque amici io chiudo qua e subito rientro in diretta vi darò il rito con la pronuncia riguardo quel rito che avevo detto oggi avevo dato oggi gratuitamente ovviamente non dovete pagare nulla pagare alle forze quando fate riti ma non a me ok quindi esco perché non voglio mischiare con questo fango e rito e rientro con quell'altro rito va bene a presto